Ragazzi, ma me volete aiutare? Liberatela, mi prego. È dall'inizio della puntata che sono qua. Prego, liberiamola. Manco l'arancia mi hanno portato. Liberiamola. Ma mi meraviglio di voi, ragazzi. Perché? Herbert, amore. Sono 80 anni che ci conosciamo, ci vogliamo bene io e te. 80 anni. Leonardo, mi meraviglio di te, siamo amici da 30 anni. Da 30 anni. Come stai? Era piccolo. Mi ricordo che... Come fai tu l'imitazione che fa la cacca e il gabipo? È bellissimo. Guarda, facciamo così. Vuoi fare un appello? Sì, faccio un appello perché ultimamente dicono che io faccia programmi sconvenienti per il pomeriggio. Hanno detto che mi sono buttata addosso a Biagio Antonacci, con Limonato Eros Ramazzotti. Ma non è vero, io sono affettuosa con tutti. Sono la zia o non sono la zia, amore? È la zia d'Italia. Scusa. È la zia. Diamole una possibilità. È pur sempre zia Mara. Venga con la libero io. Venga con la libero io. Viva Mara. Grazie. È la zia. Finalmente. Annina mia. Tutto bene? È possibile che ti hanno messo lì dietro? Capito? Non mi facevano più entrare. Che dicevano che lei... Non sei carino, amore. Grazie, grazie. Per avermi fatto venire qua. Grazie. Stai a fare palestra. Ti richiudono subito se fai così. Tutto duro sei, amore. Sì, no, ma non alimentiamo questo chiacchiericcio perché altrimenti poi giustamente... Ti menti che, amore? No, dico, lei è la zia d'Italia, ci vogliamo bene, ci abbracciamo spesso, però siccome c'è questo, insomma, chiacchiericcio, manteniamo le distanze, ma lo dico per te. Sì, no, amore, ma io figurati, io mica ce sto a provare. No, per carità. Io ce riesco. No! Oh, vedi? Voglio annunciare gli ospiti di Domenica Indie, domani. Quali? Quali? Toni Dallara, Vilma De Angelis, Orietta Berti. No, noi ci sono tutti. Tutti, da me parlano tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.